ci andiamo verso destra e poi torniamo indietro, facciamo delle fette di sopra, visto che si parlava di ciclo e poi, se il poletto vi sia andato bene, andiamo verso il sud e poi, un cibo, 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 un cibo. Scusate, ma oggi c'è l'inaugurazione della Casa della Memoria. Ah, questa è la memoria. Siccome anni fa avevano fatto delle interviste, volevo sapere se era il seguito. Scusate, ma oggi cibo, un cibo, un cibo, un cibo, un cibo. Scusate, ma oggi cibo, un cibo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti